La trasformazione della morte in vita. Il suo viso. Il suo viso è migliore del cielo nel pieno del mattino. Quando c'è, è in grado di far sentire alla gente il sole più vicino. È bello, così semplicemente bello da far paura, tanto da spaccare i limiti perfetti della bellezza della natura. Riesce a focalizzarsi, così istantaneamente nella mente di ognuno e di qualcuno, come in tutta la storia della vita, non è riuscito mai a far nessuno. Penetra come un temporale nello stomaco e nel cuore, riuscendo a trasformare ogni angolazione contenuta in essi d'odio e in amore. È qualcosa di speciale, qualcosa di immortale. Con la sua potenza riesce a diventare nel corpo di qualcuno un organo principale e vitale. È così splendido, ha quell'aspetto così forte, tanto da trasformare in vita la parola morte. Grazie a tutti.